Per il secondo contatto dei due nuovi proiettori 4K Sony, il WPL-W790S laser e il WPL-W590S A Bologna abbiamo davvero esagerato. Quasi 10 ore di calibrazione con software Kalman 2020 Ultimate, Lightspace, uno spettrometro X-Rite i1 Pro 2 per la profilazione e la velocissima Klein K10A per tutte le altre misure. In queste condizioni, con proiettori a 7 metri di distanza e 2,7 metri di base su schermo Darkstar 9, siamo arrivati a 70 nit con il 7,90 e 64 nit con il 5,90. Disabilitando le correzioni nel menu di servizio, risoluzione e dettaglio dei due Sony convincono al 100%. Per l'approfondimento vi rimando l'articolo. Sentiamo invece com'è andata. Bene, buongiorno a tutti, i primi quattro temerari che sfidano... Mattinieri. Mattinieri? No, parlavo di temerari. Ragazzi, 10.000 contagi, 83 morti, non si scherza. Però noi, nel pieno rispetto del DPCM vigente, tentiamo di farvi vedere i due nuovi proiettori Sony, il WW590S e il WW790S che sta dietro, nascosto in questo momento. E sono le due novità Sony, che sono in realtà praticamente i proiettori dell'anno scorso, ovvero il 5,70 e il 7,60, ma con alcuni miglioramenti. Il 7,60 ha fatto due salti, perché da 60 a serie 60, passato la 70 è diventato serie 90, quindi scheda madre nuova, DSP nuovo. Il 5,90 rispetto al 5,70 guadagna il nuovo Reality Creation, il nuovo Digital Focus Optimizer e soprattutto l'HDR dinamico per la gestione del top mapping e l'analisi frame by frame del contenuto in HDR, che vedremo subito. Lo stesso ovviamente guadagna il 7,90, la differenza tra i due è ovviamente il sistema di illuminamento. Lampada scarica tradizionale per il 5,90, 1800 lumen di massimo flusso luminoso, mentre il 7,90 ha un sistema di illuminamento ibrido, laser e fosfori, con 2000 lumen di flusso luminoso massimo e con un vantaggio in più, ovvero la durata e la stabilità del sistema. Vi ricordo che la lampada col passare delle ore non solo perde flusso luminoso, ma tende ad ingiallirsi, cioè cambia lo spettro luminoso verso colori più caldi e quindi è necessaria anche una ricalibrazione. In realtà Sony ha un dispositivo di autocalibrazione che dovrebbe tenere memoria delle condizioni appena finita la calibrazione e mantenerle per tutta la vita della lampada, cosa che non ha mai avuto la possibilità di verificare. Invece l'altra differenza tra i due, oltre al flusso luminoso, è che il gamut del laser del 7,90 è un po' più grande, soprattutto sul vertice verde. Per quanto riguarda le condizioni, qui abbiamo un Dark Star 9 da 3,74 e 67 di base, vabbè arrotondiamo, 3,70 di base in 21 noni. Noi però stiamo utilizzando l'area in 16 noni, perché vedremo contenuti scope e flat, ma soprattutto per guadagnare una manciata di candele su metro quadrato in più. Vi ricordo che il Dark Star 9 ha un guadagno di circa 0,8, in più i proiettori sono molto lontani dallo schermo, quindi l'obiettivo è in posizione tele e ci fa perdere un altro 15-20%. Insomma, al netto di tutto, abbiamo calibrato i proiettori e il 7,90 ha circa 71 candele sul metro quadrato al centro dello schermo, mentre invece il 5,90 ha 64-65 candele. Quindi, diciamo, viene rispettato il flusso luminoso, circa 2.000 per il 7,90, che però mantiene praticamente per molte migliaia di ore, e invece il 5,90 un po' meno. Calibrazione, come al solito, molto semplice per i proiettori Sony, e vediamo subito qualche... 5,90. Vediamo 5,90. Stiamo utilizzando un Oppo 203, se non sbaglio, come lettore. Questa punta.